Dopo giorni di tempo umite, repentino cambio di rotta e naguato a detta degli esperti meteo una veloce ondata di freddo che attraverserà l'intero stivale. Un impulso di aria artica che interesserà soprattutto le regioni centro-meridionali per l'effetto dell'incontro, scontro tra due masse d'aria di diversa natura. Già da oggi quindi è annunciato uno squarcio meteo, un graffio deciso alla primavera. Previsti equazioni temporali, anche di forte intensità, che potranno essere anche accompagnati da grandi nerrafiche di vento su Emilia Romagna, Adriatiche, Dorsale e zone interne del centro. Una situazione di instabilità che via e via abbraccia anche la Puglia, la Campania, la Basilicata, nonché la Calabria e il nord Sicilia. La colonnina di Mercurio perciò subirà un sensibile calo anche di 5 a 7 gradi, aspirare venti in riforzo tra Grecale e Tramontana. Nella giornata di mercoledì, quindi ancora brutto tempo, corovesci su Puglia, Mulise, Calabria, nord Sicilia, Abruzzo, Lucania e Messinese. Più soleggiato altrove. I venti saranno ancora forti e di Tramontana. Nella parte centrale poi di questa instabile settimana ancora fenomeni piovaschi, sull'estremo sud con clima ovunque fresco. Insomma, il nucleo d'aria, proveniente dal nord Europa, riporterà l'Italia climaticamente indietro di qualche mese.